In via della Fornace il senso unico parziale che è stato disposto dal comune unitamente alla pista ciclabile ha creato non pochi scompensi ai residenti e dalle attività commerciali della zona. I residenti di via Montenerone sono assillati dall'inevitabile aumento del traffico dovuto dal fatto che in molti utilizzano questa strada come un raccordo con il pezzo mancante per chi si mette nella via dall'interquartieri di recente apertura. Le attività commerciali una in particolare molto conosciuta e storica lamenta un dimezzamento della clientela dovuta al senso unico che limita il passaggio e l'accessibilità alla sua attività. Qui va male per me andava bene come era prima al doppio senso al doppio senso sì perché voi adesso uscite dal garage e ci avete la ciclabile sopra passando di dietro puoi uscire dall'aggiù bisogna che vai col muso nella strada nella pista ciclabile. Ma ancora più scalpore ha destato la pista ciclabile creata ad hoc che collega quella del fenile. Una segnaletica orizzontale a doppio senso contro una segnaletica verticale che parlava di un senso unico ciclisti in confusione quindi macchine che ci dicono i testimoni hanno dovuto scansare i ciclisti che invadevano la corsia insomma un pasticcio che questa mattina gli ingegneri del comune e gli addetti alla segnaletica hanno tentato di rimediare ma c'è chi come l'associazione Lupus in fabula punta il dito sulla sicurezza di queste piste ciclabili ricavate alla meno peggio su strade che non ne hanno affatto le caratteristiche adatte. Una pista ciclabile su una strada di senso unico deve essere su un lato destro della carreggiata di un metro e cinquanta e non può essere a doppio senso e altrimenti ci vuole un cordolo di cinquanta centimetri e la corsia devono esserci due corsie di un metro e venticinque ciascuna. Quindi questa è una strada che è stata progettata male, questo dimostra quanta approssimazione ci sia nella progettazione dei piste ciclabili da parte del comune di Fano. Mi dispiace, non so di chi ha la responsabilità però è evidente che è stato fatto un errore. Adesso probabilmente rimedieranno in qualche modo e avremo di nuovo una pista ciclabile in Monca che non arriva da nessuna parte, infatti si termina prima del passaggio pedonale. Noi riteniamo che la nobabilità ciclistica abbia un senso se può essere completamente fruibile, altrimenti questa è una pista ciclabile che verrà utilizzata correttamente da quelli che vengono da quella direzione mentre tutti vengono da quell'altra sarà un'infrazione e questo non è giusto. I ciclisti diciamo che gli vengono dati piccoli contentini però in realtà non saremo mai una città ciclabile.